benvenuti da FTA online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari io sono Alessandro Magagnoli responsabile dell'ufficio studi del sito ftaonline.com sito che come sapete vi aggiorna costantemente sull'andamento dei mercati finanziari con commenti e articoli ci occupiamo oggi dell'andamento settimanale dei titoli del fuzzimib in queste due tabelle ho riportato le variazioni percentuali a diverse scadenze come vedete una settimana 4 settimane 12 settimane 26 settimane e 52 settimane i titoli sono organizzati in ordine decrescente di performance settimanale quindi Amplifon è quello che nell'ultima settimana ha avuto la variazione migliore più 3 27 per cento Mediobanca invece quello che ha ceduto di più meno 7 86 per cento in giallo abbiamo quei titoli che sono stati costanti nel saper mettere a segno un guadagno e quindi vedete nel caso di ferrari stellantis a 2a azimuth unicredit e enel tutte le cinque diverse scadenze sono risultano con un saldo positivo addirittura unicredit ha fatto più del 90 per cento sulle 52 settimane quindi sull'anno ferrari 61 per cento e a 2a 50 per cento circa quindi le performance decisamente importanti che hanno battuto nettamente l'indice nella parte destra della pagina invece abbiamo quei titoli che oltre avere una performance settimanale negativa sono stati costanti anche invece in senso negativo e si di cnh iveco di asorin e fineco ora non faremo altro che andare a guardare i grafici di questi titoli per capire se da queste performance si possono ricavare delle ipotesi di andamento futuro che possono essere poi sfruttate da un punto di vista di operatività iniziamo con enel che nell'ultima settimana ha saputo lasciarsi alle spalle questa forte resistenza orizzontale che nel massimo del 4 di luglio a 6 e 38 dopo la rottura della resistenza c'è stato un pullback niente di drammatico diciamo che per adesso siamo ancora in una situazione rialzista la media mobile esponenziale a cinque giorni che come vedete durante tutto il recente rialzo è stata toccata più volte ma se andiamo a guardare vi faccio vedere il grafico lineare quindi passiamo da un grafico a candela a un grafico lineare vedete come tutte le chiusure magari ve la metto in rosso così apprezzate meglio la differenza delle due curve nero la media mobile a cinque giorni in rosso l'andamento delle chiusure e vedete tutte le volte che c'è stato un test della media in chiusura non c'è mai stata la violazione questa cosa successa anche nella giornata di ieri quindi direi che fino a che rimaniamo in chiusura e seduta al di sopra della media mobile esponenziale a cinque giorni praticamente diciamo al di sopra dei minimi di oggi che sono stati a 637 638 si può continuare a sperare in un'evoluzione positiva il titolo è reduce da un rimbalzo che è partito dai minimi dello scorso ottobre con il quale ha ritracciato la metà della discesa precedente attenzione che come ben sappiamo i ritracciamenti del 50 per cento a volte sono pericolosi perché se questa quota di resistenza non viene superata quindi in questo caso il 6 euro e 50 c'è il rischio che la tendenza principale cioè quella che viene ritracciata si possa riproporre quindi qui abbiamo visto una tendenza ribassista un bel rimbalzo che però appunto non ha superato il 50 per cento di tracement e questo quindi ci costringe per adesso a considerare la nostra fase di rimbalzo come un elemento solo solamente correttivo c'è quindi fino a che saremo di sotto i 650 il rischio che poi il trend ribassista precedente riprenda non ci sono ancora come abbiamo visto indicazioni in questo senso fino a che siamo di sotto i 650 però bisogna mantenere un atteggiamento molto prudente per quello che riguarda ferrari siamo sui massimi assoluti vedete il titolo ha messo a segno una fase di crescita crescente se mettiamo una media mobile esponenziale a 200 giorni che ci dà un po' un'idea dell'andamento del trend di lungo termine praticamente ha sempre ha sempre evidenziato o un andamento rialzista o un andamento flat ci sono state sì qui per qualche mese ha avuto un andamento forse leggermente decrescente però possiamo considerarlo piatto quindi la tendenza rialzista di lungo termine che non si è mai interrotta è evidente che quando sono state le fasi correzione come ad esempio abbiamo visto qua nel nel 2022 è stato perché ci sono stati movimenti molto bruschi di rialzo in precedenza l'ultima fase significativa di rialzo che era stata proprio questa che abbiamo visto tra ottobre e novembre del 2021 è abbastanza simile a quella che si sta disegnando adesso andiamo a confrontarle prendiamo questa linea che più o meno descrive quella fase di rialzo andiamo a mettere sull'andamento attuale vedete praticamente i due movimenti sono molto simili come direzione e come ampiezza non c'è nessun motivo per dire che questo rialzo terminerà a 340 euro che più o meno sarebbe lo stesso valore di estensione rispetto a quel rialzo che abbiamo preso come riferimento però certo ci stiamo avvicinando diciamo a situazione di potenziale ipercomprato cosa vuol dire per comprato vuol dire che la velocità di crescita che ha dimostrato il titolo è superiore a quella che in passato si è dimostrata sostenibile questo è l'indicatore RSI a 14 giorni vedete che ha toccato adesso dei massimi qua intorno all'83% in passato per lo meno negli ultimi anni negli ultimi due anni non era mai riuscito ad arrivare così in alto lo aveva fatto qua a novembre del 2021 era andato un po' oltre quelli sono stati i livelli toccati adesso c'era stata ancora una bella crescita prima che si invertisse la tendenza anche perché in quel caso l'oscillatore aveva evidenziato una divergenza ribassista cioè due picchi decrescenti qui per adesso non ci sono di crescita divergenze però ecco diciamo che le ultime tre volte negli ultimi due anni che l'oscillatore era salito intorno all'ottanta per cento c'era sempre stata una pressione quindi su Ferrari non è forse ancora detta l'ultima parola però probabilmente lo spazio a disposizione per un ulteriore procedimento del rialzo è più ridotto di quello che si potrebbe sperare se andiamo a guardare un canale che possa descrivere bene l'andamento della fase attuale diciamo che questo potrebbe essere una fase in mercato abbastanza simile come oscillazioni e come movimenti ecco vedete questo canale è stato toccato nella sua parte alta proprio dei prezzi massimi questa settimana quindi questa resistenza come abbiamo già detto intorno ai 338 340 euro potrebbe essere difficile da superare in questa fase quando si è su un trend rialzista di questo tipo non è secondo me opportuno chiudere una posizione rialzo solo perché c'è stata una fase di crescita molto estesa ma ecco quindi prima di andare ad intervenire chiudendo eventuali posizioni in essere aspetterei come abbiamo visto prima una violazione della media mobile esponenziale a cinque giorni quindi chiusura di seduta di sotto di area 332 sarebbero da considerare come una indicazione di prese profitto per posizione rialzo non andremo ad aprire nuove posizioni a meno che non ci sia una decisa rottura di area 340 per quello che riguarda Stellantis altro titolo che ha performato bene su tutte le scadenze che abbiamo preso in esame c'è questa situazione di resistenza che i prezzi hanno toccato più e più volte nelle ultime nei ultimi mesi la resistenza da questo massimo candela shooting star del 31 luglio in corrispondenza del quale sono state disegnate altre candele tipo shooting star come quella del 13 di ottobre che addirittura è un gravestone d'oggi e quella del 18 di ottobre quindi questa resistenza attorno ai 18,90 è molto molto forte se dovesse saltare sarebbe una buona notizia perché vorrebbe dire che il titolo si è lasciato alle spalle un tappo importante mancherebbe però poi una ulteriore conferma positiva con il superamento di 19,35 quella quota è ancora da tenere sotto controllo anche in caso di rottura di area 19 poi sopra 19,35 avremo una ulteriore possibilità di crescita che potrebbe portare i prezzi fino a toccare il lato alto di questo canale intorno area 20,10 non parlerei di testa spalle ribassista anche se probabilmente qualcuno di voi ha già riconosciuto in questi tre massimi uno è quello che ho già disegnato prima all'interno del cerchio gli altri due sono questi qua questa linea di base qualcuno di voi ha già forse riconosciuto una figura potenzialmente ribassista appunto in testa spalle che però verrebbe comunque confermato solo a di sotto di area 17,10 e 17,20 quindi per adesso lo possiamo mettere lì come promemoria ma di certo non è una figura sulla quale andare ad operare per adesso unicredit ha una storia pregressa di forte rialzo abbiamo detto che nelle ultime 52 settimane ha praticamente raddoppiato il suo valore c'è questa candela del 20 di novembre una candela molto significativa anche in questo caso si può parlare di gravestone doji vedete c'è questa eguaglianza di valore di apertura e chiusura e c'è questa forte tendenza rialzista che è stata interrotta dal gravestone doji se ci sarà la rottura di quei livelli potrebbe esserci un ulteriore spunto rialzista questo è lo storico a partire dai massimi di giugno 2014 rottura del 61,8% di retracement avvenuta di recente e quindi possibilità di salire in caso di rialzo verso almeno area 28,50 però ripeto attenzione perché questi livelli raggiunti potrebbero rappresentare un temporaneo punto di arrivo anche qui se guardiamo l'oscillatore rsi lo troviamo in una situazione di ipercomprato quindi solo a di sopra del massimo del 20 di novembre a 25,50 ci si potrebbe sbilanciare nuovamente al rialzo questo è il grafico di A2A anche A2A è stato un titolo che nell'ultimo anno ha messo a segno un rimbalzo veramente molto importante siamo arrivati però sia con i massimi del 2021 sia con i massimi toccati negli ultimi giorni veramente molto vicini al 61,8% di retracement del ribasso dai massimi del 2008 la resistenza è a 1,98 praticamente possiamo dire 2 euro e senza superamento di quei livelli il rischio di una fase di ripiegamento è a questo punto elevato sopra 2 euro ci sarebbe spazio per una crescita importante possiamo considerare questo come il canale che contiene i prezzi durante tutta la fase rialzista e quindi diciamo che sopra 2 euro almeno il test di area 2 e 10 sarebbe possibile in tempi molto brevi e poi sopra quei livelli ci sarebbe la possibilità di salire sul 78,6% di ritracciamento quindi fin in area 2,45% per quello che riguarda un'evoluzione negativa prendiamo come riferimento di breve la nostra media esponenziale 5 giorni che è stata toccata dai minimi di oggi passa a 1,93 sotto quei livelli il rischio di test di 1,89-1,90% e supporto che deve essere rispettato per evitare l'inizio di una vera e propria fase correttiva abbiamo infine azimuth tra i titoli con una buona performance sulle diverse scadenze dalla settimana alle 52 settimane vediamo che prezzi sono riusciti a forzare il massimo del 28 di luglio a 22,07 la rottura di quel livello di resistenza orizzontale non ha portato per adesso ad una accelerazione rialzista abbiamo visto anche la comparsa di una candela impiccato in hanging man il 23 di novembre una candela potenzialmente negativa vi ricordo che quando compaiono queste candele bisogna prenderne atto ma solo in caso di ovulazione dei minimi su una candela ribassista o rottura dei massimi per una candela rialzista ha senso diciamo sbilanciarsi in funzione del segnale che è stato inviato qui ad esempio avevamo una candela inverted hammer la sua comparsa faceva pensare ad una ipotesi di ripresa del rialzo però solo con la rottura del massimo dell'inverted hammer era poi lecito sbilanciarsi operativamente al rialzo questo è il nostro livello critico poi al di sopra del massimo del 21 agosto c'era poi stato il segnale appunto di ripresa del rialzo qui abbiamo ancora un inverted hammer ma su un trend rialzista che si chiama quindi shooting star la variazione della base shooting star era intervenuto un segnale di debolezza quindi se dovesse esserci la variazione di 21,77 potremmo ipotizzare appunto una fase di correzione di tutta questa salita abbiamo adesso invece da guardare velocemente i titoli peggiori in termini di performance nel breve e nel medio termine questo CNH abbiamo già analizzato questo titolo di recente vi ho fatto vedere la corrispondenza tra i minimi toccati nell'ultima settimana e il 61,8% retracement della salita dei minimi del 2020 fino a che i prezzi riusciranno a rispettare in chiusura di seduta area 9 euro ci può essere spazio per un rimbalzo però sempre in un'ottica almeno inizialmente correttiva visto che appunto la storia del titolo è decisamente negativa sopra area 9,65 possibile un movimento verso almeno la parte mediana di questo canale intorno ai 10,75 euro per quello che riguarda Fineco abbiamo visto la realizzazione di questa figura a doppio minimo con la quale il titolo ha avviato una fase di rimbalzo che ha permesso ai prezzi di superare la media mobile esperienziale a 100 giorni la chiusura della settimana a 12,10 coincide proprio con la media a 100 giorni fino a che rimarremo al di sopra di area 12 si può pensare che questa fase di rimbalzo abbia possibilità di proseguire al di sopra di 12,50 ci serve poi spazio per un ritracciamento almeno di un terzo circa della discesa precedente quindi possibilità di arrivare intorno ai 13,10 e 13,15 euro per quello che riguarda Diazorin abbiamo la costruzione anche qui di una fase di una potenziale fase di accumulo si può riconoscere una evidente decelerazione del precedente trend rio bassista non so se i prezzi sono già riusciti a superare la media mobile esperienziale a 50 giorni la 50 giorni è stata superata ed è ormai orizzontale a conferma del fatto che la tendenza ribassista ha decelerato e invece la 100 giorni è stata testata un paio di volte nelle ultime settimane ancora non è stata superata in chiusura di seduta se dovesse esserci una chiusura di sopra di 90,60 90,65 avremo spazio per un tentativo almeno di andare a prendere questa resistenza orizzontale intorno a 97,50 infine abbiamo Iveco che si è fermato con il recente ribasso a testare i minimi del 31 di maggio un supporto evidentemente molto importante a 6,92 per adesso la reazione che ci sarà da quei livelli però non ha superato livelli di resistenza tali da poter essere considerato l'inizio di un movimento duraturo in termini di medie mobili la 50 giorni che ci dà un'idea della condizione del trend di breve medio termine passa a 7,85 servirebbe la rottura di 7,85 per prospettare poi il test di area 8,65 8,70 vi ringrazio per avermi seguito fino a questo momento vi invito come sempre a lasciare un like se vi è piaciuto questo video e vi invito anche a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per permetterci di continuare a fornire contenuti simili a questi ovviamente nella pagina youtube potete anche lasciare commenti o vostre eventuali osservazioni a questi contenuti